5 4 3 2 1 vai accenno destro 50 sinistra 5 70 destra 4 tiene subito sinistra 4 in accenno destro 70 sinistra 4 meno diventa destra 4 meno chiude subito tornante destro 100 a re il sinistra 4 in destra 4 meno 70 destra 3 subito sinistra 2 occhio per destra 3 in sinistra 2 lunga in destra 1 occhio subito sinistra 2 tieni in destra 3 e sinistra 4 lunga 100 al cartello ritarda tornante sinistro destra 4 vai 70 al re il destra 4 meno in sinistra 3 ritarda poco 150 a vista sinistra 4 in destra 4 lunga diventa 3 occhio e 50 tornante destro sinistra 5 vai bravo 100 tornante sinistro destra 5 in sinistra 5 al palo destra 3 più tieni subito tornante destro 15 sinistra 3 meno 100 alla chiesa sinistra 5 in destra 5 attenzione attenzione alla griglia sinistra 2 sporca subito sinistra 2 sporchissima destra 5 in sinistra 5 e 150 destra 4 in sinistra 3 non tagliare destra 3 più tieni 200 al dosso al dosso stai sinistro destra 5 lunga diventa occhio 4 70 sinistra 3 tieni per tornante destro bravissimo 20 destra 3 taglia in sinistra 2 tieni 50 accenno destra 100 accenno destra 5 100 al dosso attenzione stai sinistro per destra 4 tieni subito sinistra 4 scende chiude 3 poi destra 3 e subito sciccane entra destra diventa sinistra 2 molto 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 sporca e lunga 50 al vuoto destra 3 tieni lunga lunga chiude dopo 50 sinistra 5 lascia diventa 4 alla casa sinistra 3 più in destra 3 secca occhio qui 70 centeno destro in sinistra 3 non tagliare destra 4 occhio 50 sinistra 5 lunga diventa la casa 4 alle palanghe destra 3 tieni molto subito sinistra 1 in destra 2 occhio 30 sinistra 3 per destra 2 per tornante sinistro non tagliare 30 30 tornante destro leva occhio interno 30 30 stai centro sinistra 4 30 tornante sinistro chiude dopo 20 tornante destro chiude molto per tornante sinistro per tornante sinistro scende destra 4 in sinistra 3 tieni tutto per tornante destro destra 5 lunga 150 stacca fortissimo tornante sinistro 30 tornante destro 30 sinistra 4 scende destra 3 subito tornante sinistro 50 sinistra 5 in destra 4 tieni in sinistra 3 e subito tornante sinistro per tornante destro 40 destra 3 lunga tornante sinistro chiude dopo 50 sinistra 4 lunga in destra 4 taglia poi 100 scicca in doppia tra sinistra attenzione esce in sinistra 3 50 90 destra 4 taglia eccezione sinistro per tornante destro occhio qui 70 al muro sinistra 4 subito destra 4 100 tornante sinistro 20 destra 4 per sinistra 5 150 occhio sconnesso occhio al buco per attenzione tornantone destro 50 fine per destra 4 bravissimo 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 grande così grande grande belle staccatone questo figa semi gasi comunque